Buonasera a tutti Ciao a tutti, io sono Sean, questo è Salt, il mio canale YouTube che parla di sport e altri argomenti interessanti e il video di oggi sarà incentrato sulla corsa, in particolare sul come si organizza una gara di corsa su strada in particolare, però questi ragionamenti valgono anche per una gara di trail ed eventualmente per estensione anche una gara di triathlon Il motivo per cui ho sentito la necessità di fare questo video è che ieri c'è stata una gara di 21 km che ha suscitato e credo susciterà aspre polemiche e delusioni per via dell'organizzazione Allora io intendo paragonare questa gara, la 21 km Lampa d'Odremia, da Cuma alla Rotonda Diaz alla 10 km di Telese, proprio per capire come si fa a organizzare per bene una gara Quindi la settimana prossima usciranno i rispettivi video delle due gare ai quali poi aggiungerò alla fine questo video che comincio a proporvi come introduzione Tutte le cose che vi elencherò in questo video sono importanti quindi sono state, diciamo, tralasciate le cose in più le cose che ritengo in qualche modo superflue Per privilegiare quello che io ritengo sia invece la parte più essenziale l'ossatura dell'organizzazione perché l'evento riesca tecnicamente senza mettere poi a disagio le persone che coinvolge e senza mettere assolutamente in pericolo la loro sicurezza Sarete voi a dirmi nei commenti quali sono le cose che ritenete siano irrinunciabili in una gara e quali sono le cose che costituiscono un di più o un valore aggiunto che rende una gara più speciale di un'altra Ho fatto una lunga lista di cose importanti quindi la prima cosa è che come organizzatore di una gara dovete avere un'associazione più dei volontari Questa associazione potrebbe essere per esempio una squadra di corse perché quello che è importante è che l'associazione sia radicata e rappresentativa del territorio in cui si svolge la manifestazione Faccio qualche esempio potrebbe essere l'organizzazione del trail a Cava dei Tirreni l'organizzazione del trail ad Agerola oppure, che so, l'organizzazione della 21 km di Napoli che si è vista cambiare da più legata al territorio quando il presidente era ben in scarpellino a quando poi la gestione è passata in mano all'organizzatore della maratona di Praga anche lui un campano ma non così presente sul territorio Ovviamente servono i volontari durante una squadra di trail scusatemi, durante una gara di trail serviranno per pulire i sentieri e preparare il percorso con il cosiddetto balisaggio e mentre su una gara su strada insomma sono tantissime le cose da fare vedremo in particolare quale sarà il lavoro dei volontari Altra cosa assolutamente essenziale è il dialogo con le istituzioni legali quindi per organizzare una gara bisogna avere le ordinanze municipali che permettono di svolgere la manifestazione ricordo per esempio quando la Napoli Nord organizzava la maratona cost to cost in costiera amalfitana ed era particolarmente complicato organizzarla perché bisognava avere il beneplacito di tutti i comuni attraversati dalla maratona Altra cosa essenziale allo svolgimento della gara è reperire degli sponsor questi sponsor saranno poi quelli che ci consentiranno tramite i prodotti delle loro aziende di confezionare dei premi in natura e pacchi gara per tutti gli atleti e i ristori della manifestazione Ci deve essere un dialogo con le federazioni sportive e su tutte per le gare su strada la FIDAL quindi la federazione italiana di atletica leggera la FIDAL normalmente prevede un tesseramento anno per tutti i suoi atleti c'è l'obbligo di fare la visita medica con l'elettrocardiogramma la prova da sforzo per far sì che nessuno rischi un infarto durante la gara c'è anche l'unione italiana sport per tutti la WISP che organizza delle gare che non sono così competitive quindi nelle gare WISP non è importante una classifica rigorosa e tutti sono incoraggiati a fare sport in maniera meno competitiva se la gara è di triathlon ovviamente sarà considerata la FIDRI la federazione italiana triathlon se una gara è di trail gli organizzatori si assicureranno che tutti gli atleti sono in regola con il certificato medico perché ci potrebbe essere qualcuno che è un atleta libero quindi non tesserato FIDAL e quindi non è automatico che abbiano il certificato medico perché la gara si svolga in sicurezza è essenziale la chiusura al traffico quindi non ci devono essere autoveicoli che rieschiano di investire i podisti durante la gara io ricordo nel anni 2006-2007 che c'era in provincia di Napoli provincia di Caserta la chiusura al traffico si formavano delle lunghe file e si formano ancora delle lunghe file di automobilisti arrabbiati perché bloccati dalla gara che non spegnevano mai il motore delle auto quindi immaginate una fila di 50-80 macchine diesel tutte quante a sgasare e tutti arrabbiati e gli atleti che dovevano passare a fianco ai fumi di scarico delle auto ricordo ancora una gara di tanti anni fa non bene organizzata senza chiusura al traffico che fu la maratona Salerno-Pestum ovviamente ci deve essere l'assistenza medica è un obbligo che ci sia un medico e un'ambulanza pronta ad assistere gli atleti in caso insomma di gravi problemi anche problemi meno gravi come svenimento, disidratazione, forti crampi insomma l'assistenza medica ci vuole per quanto riguarda i ristori normalmente sulle gare di 10 km 21 km e maratona c'è un ristoro ogni 5 km di gara il ristoro per le 10 km prevede acqua ma per le 21 km per le maratone oltre all'acqua spesso ci sono i sali minerali e del cibo il cibo è particolarmente importante durante la maratona durante le 21 km e durante la maratona c'è anche lo spugnaggio quindi 2 km dopo il primo ristoro ci saranno delle spugne bagnate di acqua per permettere agli atleti di rinfrescarsi alcuni organizzatori mettono anche delle docce volanti lungo il percorso della gara e d'estate spesso il ristoro può avvenire più spesso dei 5 km è anche importante non lasciare l'acqua al sole in modo che si scaldi ma anche non fornire dell'acqua gelida che poi farebbe male agli atleti accaldati durante la gara il percorso della gara deve essere chiaramente indicato quindi si disegnano delle frecce a terra con la vernice e poi negli incroci importanti spesso ci sono i volontari della protezione civile oppure i volontari dell'associazione organizzatrice a indicare la strada agli atleti questo avviene normalmente anche durante le gare di trail e anche durante le gare di triathlon e spesso c'è il cosiddetto apripista cioè una guida che guida sulla strada giusta i primissimi atleti in gara mi rendo conto di aver saltato una riga e subito dopo gli sponsor c'è il servizio iscrizioni che è importante perché permette alla società organizzatrice di incassare i soldi e le iscrizioni e poi il cronometraggio tanti anni fa il cronometraggio veniva fatto fisicamente quindi dai cronometristi che erano presenti sul tracciato dell'arrivo e su carte con cronometro segnavano gli arrivi e questo era un sistema sicuramente efficace mentre in tempi moderni ci sono dei chip che sono o attaccati al pettorale della gara o sono dei chip usa e getta oppure ci sono dei chip che gli atleti rinnovano una volta all'anno e permettono di fare tutte le manifestazioni locali il rilevamento sia del chip sia quello cronometrico manuale ci vuole in almeno tre punti della gara questo per evitare che qualche atleta sleale e poco sportivo possa tagliare il percorso della gara da qualche parte ad assicurare il corretto svolgimento della gara ci sono anche i giudici di gara i giudici di gara quindi giudicano la correttezza del comportamento degli atleti per esempio se un atleta dovesse indossare due chip e non un chip solo in modo da portare il doppio dei punti alla sua società sarebbe immediatamente squalificato se si tratta di una gara di trail un atleta che non aiuta un altro atleta in difficoltà perché è caduto e quindi c'è un pericolo viene squalificato oppure un atleta che sporca il percorso naturistico viene anche lui squalificato mentre nel triathlon i giudici di gara per esempio assicurano che gli atleti se una gara no draft non facciano scia con gli altri ciclisti eseguino le transizioni tra una disciplina e l'altra correttamente e così via normalmente alle gare c'è un arco di arrivo un arco di partenza e un arco di arrivo e c'è anche un nastro alla partenza un nastro all'arrivo è naturalmente lo sparo che indica la partenza il nastro e l'arco servono spesso a trattenere gli atleti dietro la linea di partenza perché molto spesso nelle manifestazioni affollate gli atleti vorrebbero partire davanti spesso si mettono atleti lenti davanti che creano un tappo in partenza e poi si vorrebbero rubare qualche metro quindi partono davanti alla partenza è compito dei giudici dello speaker assicurarsi che quindi ci sia una partenza ordinata nelle gare molto frequentate penso alla maratona di Roma alla maratona di Parigi ma anche alla 10 km di Telese ci sono delle vere e proprie griglie di partenza in cui gli atleti a seconda della loro velocità di percorrenza vengono preselezionati ci deve essere acqua abbondante per tutti all'arrivo e anche del cibo perché dopo aver fatto una 10 km uno può avere un calo di zuccheri a maggior ragione ci deve essere un po' di cibo all'arrivo anche per la 21 km e la 42 km alcuni organizzatori hanno pensato di non dare cibo all'arrivo per cosiddetti protocolli Covid ma non è vero basta mettere questo cibo questo ristoro in una vaschetta monoporzione e il gioco è fatto ovviamente per evitare che una massa di 200-500 atleti faccia pipì o cacca dove capita prima della gara e all'arrivo della gara ci vorrebbero dei bagni sia alla partenza che all'arrivo deposito borse ci vuole un deposito borse un posto dove lasciare le borse durante la gara spesso succede che ci possono essere dei ladri che forzano le macchine o comunque questo può essere un problema specialmente se una gara parte in un luogo e arriva in un altro luogo e ci deve essere un pulmino un trasporto che porti le borse all'arrivo e le borse poi vengono custodite non si capisce per quale motivo recentemente ci è stato detto che il protocollo anti-covid vietava il deposito borse non ci credo la logistica e il trasporto degli atleti è ovviamente molto importante non dovrebbe avvenire che viene promesso un pullman una navetta che viene fatta pagare 10 euro e poi gli atleti sono stipati in 14 in un ducato che dovrebbe portare 9 persone in tempi di covid è importante che il presentatore della gara lo speaker abbia un vero e proprio impianto audio di qualità professionale e non un mini altoparlante con microfonino per fare il karaoke alla festa dei bambini per esempio questo è importante sia per dare valore alla gara e quindi spiegare anche la gara al pubblico sia per esempio per fare un briefing pre-gara quindi un'informativa pre-gara sul percorso della gara gli aspetti tecnici a maggior ragione durante le gare di triathlon dove i giri di boa del nuoto il numero dei giri in bici e a piedi va spiegato per bene molte gare offrono a tutti gli atleti una maglietta tecnica anche come ricordo della gara quindi con il logo della gara ebbene non dovrebbe accadere che se c'è il pagamento anticipato l'iscrizione anticipata tramite bonifico e quant'altro che le maglie siano date a casaccio il giorno della gara insieme al ritiro pettorale quindi la taglia della maglia dovrebbe essere selezionata da ciascun atleta all'atto delle iscrizioni e poi se l'organizzazione dice che il limite degli atleti è 500 allora loro dovrebbero avere a disposizione 510, 520 maglie per essere sicuri di averne per tutti e non avere poche maglie in rapporto al numero di iscritti stesso discorso per il numero di pacchi gara che dovrebbero essere leggermente superiore al numero degli iscritti la consegna dei premi una volta avvenuta la gara dovrebbe avvenire dopo aver affisso le classifiche quindi si affiggono le classifiche a un muro a un palo perché tutti le possano guardare e di conseguenza si possono dare i premi per gli atleti primi arrivati assoluti e per le diverse categorie così che ciascuno può prepararsi e sapere se sarà premiato oppure no va da sé che i primi premiati quindi gli atleti premiati da assoluti vengono esclusi dalle premiazioni di categoria molte gare offrono un servizio fotografico quindi c'è uno studio fotografico associato all'evento e tutti questi servizi non solo danno più valore alla gara ma rappresentano anche una possibilità ulteriore di guadagno per gli organizzatori e per coloro che offrono questi servizi collaterali una cosa che non ho citato che non è essenziale è la medaglia all'arrivo quindi dalla 10 km alla 21 km alla maratona generalmente ciascun atleta che porta a termine la gara o per usare la parola inglese il finisher riceverà una medaglia via via più grande più serigrefata o addirittura scolpita nel caso della maratona e un servizio aggiuntivo che si offre è quello dell'incisione del nome dell'atleta dietro un piccolo pagamento la medaglia altra cosa diciamo importante per dare valore all'evento è la valorizzazione culturale dei luoghi chi la deve fare? innanzitutto il presentatore della gara lo speaker quindi se c'è un percorso di valore storico-culturale di valore naturalistico o anche di valore intangibile immateriale quindi un percorso che è ricco di tradizioni tutto questo dovrebbe essere spiegato agli atleti che sono anche dei turisti che vengono da lontano e vogliono sapere queste cose quindi se queste cose vengono annunciate soltanto sul regolamento della gara e poi non vengono ribadite alla partenza e all'arrivo si perde un'opportunità di valorizzazione qualcosa di importante da dire sulle gare di triathlon non così tanto o almeno in maniera marginale sulle gare per strada è che c'è anche il paratriathlon quindi ci sono anche degli atleti che sono paratleti perché hanno delle disabilità e lottano con altri paratleti ma proprio per vincere le proprie disabilità e sentirsi forti gareggiare innanzitutto contro se stessi e quindi è importante citare l'accessibilità alla gara per tutti l'esempio più comune di paraatleta che partecipa invece alle gare di corsa su strada è una persona che può avere una disabilità come aver perso un braccio quindi non ha bisogno di assistenza particolare oppure faccio un altro esempio a caso che mi viene in mente un atleta non vedente che gareggia con il polso legato a un altro atleta che lo assiste e quindi viaggiano in sincrono passo dopo passo è una cosa veramente stupenda come esperienza perché poi ci deve essere questa attenzione quindi l'atleta vedente è veramente la guida dell'altro atleta e si deve impegnare come sforzo in sincrono con lui io l'ultima volta ho visto due atleti correre insieme in questo modo alla gara di Telese manifestazioni culturali dopo la gara post gara qui siamo nel campo diciamo delle cose non essenziali per la riuscita della gara stessa ma comunque molto molto importanti per cui una gara che abbia poi delle manifestazioni culturali dopo attrae un maggior numero di atleti ci deve essere poi un'adeguata gestione dei reclami e delle squalifiche per esempio se durante una gara di trail qualcuno vede un altro atleta tagliare il percorso può fare un reclamo spesso avvengono delle squalifiche durante le gare di triathlon ma l'atleta che si sente ingiustamente squalificato può anche anche lui fare il reclamo un aspetto spesso trascurato è la pulizia del percorso della gara dopo che si è svolta la manifestazione e all'arrivo ovvero c'è un grande dispendio di acqua bottigliette cibo ma poi gli atleti sono negligenti o non trovano sempre dei bidoni a disposizione per cui è facile che i luoghi della gara si sporchino quindi questo deve essere previsto e prevenuto da parte degli organizzatori l'associazione che organizza la gara deve avere un ufficio stampa questo ufficio stampa quindi si curerà di pubblicizzare la gara comunicare tutte le informazioni utili prima della gara e poi raccontare la gara dopo l'evento stesso e questo dialogo dell'ufficio stampa con gli atleti con il mondo sportivo farà sì che la manifestazione possa sempre migliorare e crescere un altro aspetto importante è l'ingaggio di atleti di rilievo come atleti corridori professionisti italiani ma citiamo soltanto le nazionalità più comune nel mondo della corsa atleti marocchini e atleti keniani perché si ingaggiano questi atleti e si pagano anche questi atleti qualcosa per farli partecipare alla gara perché in questo modo il tasso tecnico atletico della gara salirà per esempio una 10 km che a livello locale si correrebbe in 32 minuti 31 minuti con la presenza degli atleti professionisti si corre in 30 minuti 29 minuti e così via per le altre gare e le altre distanze questi atleti professionisti sono famosi sono di richiamo cercheranno probabilmente anche di vincere un premio in denaro proprio perché sono dei professionisti e attrarranno a loro volta un numero maggiore di atleti che li ammirano quindi costituiscono un'attrattiva maggiore della manifestazione faccio un paio di esempi di atleti professionisti che ho visto partecipare nelle ultime gare di trail nelle gare di trail che si sono svolte recentemente ad aggerola c'è stata la nazionale italiana di skyrunner mentre per il circuito trail campania recentemente ci sono stati gli atleti del team scarpa scarpa è una marca di calzature sportive che ha un team di atleti forti nutriti tant'è che loro poi hanno abbattuto un atleta della nazionale skyrunning italiana quindi si crea lotta si crea competizione in questo modo gli altri atleti poi possono a fine manifestazione incontrare questi sportivi professionisti che sono dei maestri e magari possono chiedere qualche tecnica di allenamento qualche consiglio un altro aspetto importante per la credibilità della gara è il pagamento dei premi e degli ingaggi quindi se l'organizzatore della gara si è ben organizzato anche dal punto di vista finanziario economico chi vince un premio in denaro riceverà subito un assegno a fine gara o comunque tutti questi ingaggi questi premi saranno onorati in tempi ragionevoli e questo farà sì che l'anno seguente o nelle prossime edizioni gli atleti se ne ricordino e quindi saranno più invogliati a partecipare di nuovo naturalmente i premi non devono essere per forza in denaro possono essere anche in natura io ricordo tanti anni fa che vinsi un prosciutto crudo alla maratona di grotta azzolina per essere arrivato quarantanovesimo e poi mia mamma mi ha appestato per anni chiedendomi quando avrei vinto il prossimo prosciutto oppure ricordo non mi ricordo alla gara di ruviano tanti anni fa vincemmo come premio società un chilo e mezzo di salsicce che poi ci spartimmo ancora nelle gare di trail sono molto comuni e danno valore alla manifestazione e al paese della gara i cesti con i prodotti tipici quindi se gareggerò a tropea mi aspetterò di vincere delle cipolle rosse caramellate altri servizi accessori alla gara sono i video fatti con i droni le dediche insomma c'è tantissimo ancora da citare e da organizzare ma io credo di aver coperto tutti i punti essenziali se ce l'avete fatta guardare il video fino alla fine se vi interessa e volete dirmi quali sono le cose più importanti mi farà piacere se mi date un like e se vi iscrivete al canale mi renderete ancora più felice un saluto a tutti che c'è Leave them kids alone Hey Hey Teach you leave these kids alone All in all it's just another brick in the wall All in all you're just another brick in the wall All in all it's just another brick in the wall All in all it's just another brick in the wall